Musica Benvenuti, questa sera siamo in un'area espositiva e vogliamo presentarvi naturalmente tra un attimo la pittrice Mirta Maranca e noi stiamo festeggiando naturalmente la serata dedicata ai novelli, olio biodinamico del nostro viale, piatti tipici autunnali. Buonasera, sono Mirta Maranca, sono di Pescara e ho iniziato i miei studi a Pescara, quindi liceo artistico statale e poi ho frequentato l'Accademia di Belle Arti fuori, questo per introdurre un po', per farmi conoscere. Ringrazio prima di tutto lo chef Dino Pavone per avermi invitata, ho esposto vari quadri, ho inserito delle tematiche sull'Africa e nell'altra sala invece ci sono sul mito classico greco. Questo è uno degli ultimi miei quadri, rappresento una donna orientale, fa parte di una serie di quadri che ho rappresentato, nei quali ho rappresentato l'Africa. Sono figure completamente inventate, quindi provengono dalla mia fantasia. Qui ho rappresentato un albero, è la primavera, quindi lo sbocciare della natura, con una chiesetta che sta crollando, quindi la vita e la morte, un ciclo vitale. Ci siamo riuniti all'ONAV di Pescara, l'organizzazione nazionale di assaggiatori di vino della delegazione di Pescara. Ogni mese ci riuniamo presso il ristorante Emozione da Puzzo. Stasera abbiamo degustato i vini novelli, proprio in occasione del periodo della messa in commercio. Abbiamo degustato i vini novelli con i sei aziende vinicole conosciute in Abruzzo. E tra questi anche qualche vino un po' fuori regione, del Veneto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.